Ragazzi, benvenuti e bentornati su Past Generations. Come avete letto da titolo, il tema principale di questo video sarà Fallout, in particolare Fallout 4. Ma perché ho deciso di parlarvi di Fallout 4? Premetto che questo video è molto improvvisato e non mi sono scritto nulla, anche se una lista di cose da dire avrei dovuto farmela, ma cercherò di dire tutto quello che devo dire. Innanzitutto perché sto facendo un video su Fallout 4? Perché nell'ultimo periodo mi è venuta una voglia di rigiocarmi Fallout 4, solo che io ho una sorta di amore e odio verso Fallout 4. Questo perché? Perché Fallout 4 è un pregevole shooter, un pregevole gioco d'avventura, ma non è assolutamente un GDR. Cioè, è una monnezza di GDR, non c'è nulla che sia riconducibile a un gioco di ruolo su Fallout 4 e volevo spiegarvi il perché. Da sempre ho parlato con i miei amici di Fallout 4 di quanto per me sia un GDR che valga veramente, se vogliamo dargli un voto, come GDR vale 4, ok? Per essere gentili o un 3. Ma partiamo proprio dalle cose basilari, dalle sciocchezze. I personaggi hanno già un background e già una voce. Ora, di solito nei giochi di ruolo i personaggi principali non hanno voce perché la dai tu, nella tua testa, la tonalità del personaggio. Però ci posso anche passare sopra la voce, ok? Non è un problema così grave, ci sono dei giochi di ruolo pregevolissimi anche con personaggi principali che hanno una voce. Il problema è quando tu vuoi fare un personaggio, quando dai una sola voce. Perché se io voglio fare un personaggio anziano e la voce è la stessa di un ventenne, di un trentenne, non funziona come personaggio. Quindi, anche lì, rompe l'immersività e non puoi effettivamente giocare di ruolo. Perché se il mio personaggio anziano ha la voce di uno giovane, capite bene che c'è qualcosa che non va. Inoltre, il background dei personaggi. Perché mi devi dare un background così definito dei personaggi principali del gioco? Che sono tra l'altro i personaggi che dovrò giocare io in un gioco di ruolo. E voi direte, sì, ma anche negli altri Fallout c'era un background su Fallout New Vegas, eri il corriere. Su Fallout 3 eri il figlio di un dottore all'interno di un vault. Sì, ragazzi, ma in Fallout 1 eri un abitante del vault. Sì, però non è che, per esempio su Fallout New Vegas, non è che ci è dato sapere perché noi siamo il corriere. Che cosa abbiamo fatto nella nostra vita, eccetera, eccetera. La stessa cosa per gli altri personaggi. Mentre su Fallout 4 il personaggio maschile ha fatto il soldato. Il personaggio femminile è un avvocato. Stanno insieme e hanno fatto un figlio. Tu devi per forza andare a trovare tuo figlio. Tu devi per forza comandare un personaggio che è un figlio che va trovato. Un figlio che tra l'altro non ti ci fanno neanche affezionare. Perché sono due secondi proprio che lo guardi, sto bambino. Te lo porti fino al vault e poi te lo rapiscono. E poi, spoiler, metterò nel titolo che ci saranno dei spoiler della trama del gioco. Poi te lo ritrovi che è vecchio di 60 anni. Che tra l'altro, come logico che sia, perché il personaggio, io non capisco perché si sorprenda di questa cosa. Sei stato criogenizzato all'interno di un vault per chissà quanto tempo. Ti aspettavi veramente di trovarti un neonato come bambino. Cioè, e non ti ci fanno affezionare al bambino. Non ti fanno, non ti danno una motivazione valida per andare a trovare sto ragazzino. E il problema è che sembra che anche il protagonista non abbia tutta questa voglia. Perché con tutti i personaggi, quando fai la trama principale... Oddio, devo trovare mio figlio. Sean, Sean è scomparso. Devo trovare mio figlio, mio figlio. Sean, Sean, Sean è scomparso. Mio figlio, Sean. Heavy Rain. Cioè, e poi... Sì, Preston, non ti preoccupare. Ci penso io a liberare quell'insediamento dai Rattitalpa, dai Predoni, dai Ghoul. Sì, sì, non ti preoccupare. Voglio proprio diventare il capo dei Minutemen. Oh, sì, voglio proprio aiutare il Railroad. Tanto ho tempo da perdere. Cioè, non c'è una coerenza col personaggio. Ma perché tu mi devi per forza dare questo obiettivo? Cioè, nel senso, ok, nei precedenti Fallout, tipo, trova tuo padre, trova il chip per l'acqua, riprendi il Platinum Chip, ok, ci sto. Ma ti motivano comunque, ti motivano, ti danno un'urgenza nel fare quelle cose. E comunque, o comunque non è così. Il personaggio principale non è così. Oddio, devo trovare questa cosa, devo fare questo, come su Fallout 4. Perché poi, se tu hai tempo da perdere per fare gli insediamenti, allora non è così importante tuo figlio, no? Sarebbe bastato un minimo di più per farti affezionare a sto bambino. Cioè, non ti ci affezioni per niente. Tu sai semplicemente che hai un figlio e che lo devi ritrovare. Punto. Tra l'altro vorrei proprio capire, ora, questo per fare veramente il pignolo, però se hai stato congelato per 200 anni e già sai camminare, sparare, non avresti bisogno di, tipo, fare un po' di fisioterapia, qualcosa, riabilitazione, no. Vabbè, ma questo ci posso passare sopra. Solo che non capisco come faccio a un avvocato a sapere usare un mitragliatore a canne rotanti o a sapere entrare in un'armatura atomica. Io potevo passare sopra all'utilizzo delle armi, perché sai, no? Di roleplay tu fai, ok, c'ha il marito militare, gli avrà insegnato a difendersi in un mondo che rischiava la terza guerra mondiale, una guerra nucleare. E ci sta, ma addirittura nell'armatura atomica? Cioè, è poco credibile. Ma andiamo oltre. Vogliamo parlare delle scelte all'interno del gioco? I dialoghi sono qualcosa di imbarazzante. Le scelte non ci sono. Le scelte nei dialoghi sono sì, no, quindi non ci sono altri modi per fare quella determinata cosa, a meno che tu non gli dica sì, quindi il no è come se tu gli dicessi una cosa inutile, perché non è sai come su New Vegas, sul 3, sul 2, sul primo, che per fare una cosa puoi avere varie scelte, no, gli puoi dire un no a un personaggio e dire sì a un altro per avere un'altra via, per fare una determinata azione. No, 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 no. Su Fallout 4 o dici sì, o rispondi sì in modo sarcastico, o fai una domanda, oppure dici no e ti blocchi. Non ha senso questa cosa, non ha veramente senso, perché tu devi dare l'opportunità, la possibilità in un gioco di ruolo, devi dare la possibilità al giocatore di scegliere la strada che lui desidera, devi comunque tenere conto delle scelte che può fare il giocatore, non puoi dare una scelta obbligata, perché altrimenti non è un gioco di ruolo, diventa un gioco a binari, diventa un'avventura della Telltale, a sto punto fammi l'avventura della Telltale di Fallout, non mi fare il gioco di ruolo a binari, anche perché i finali, i finali sono due, o fai saltare in area l'istituto, o fai saltare in area il Commonwealth, non c'è una via di mezzo, proprio bianco o nero, o ti ha lei con loro, o ti ha lei con gli altri, gli altri che sono i Minutemen, i Railroad, e chi cacchio c'è stava poi, non manco mi ricordo, ah, è la confraternita d'acciaio, non me la ricordavo, perché non me la so mai inculata, la confraternita d'acciaio, devo essere sincero, oppure ti ha lei con l'istituto, ora, a capo dell'istituto c'è il nostro figlio, wow, sorpresona, incredibile, e, ok, ci può stare che questo, a livello di trama, può essere effettivamente un colpo di scena, anche se, ok, si scopre abbastanza presto nella trama, perché la trama principale, ragazzi, non dura più di 20 ore, ve lo posso assicurare, la trama principale durerà, sì e no, una quindicina d'ore, dieci ore, se fate sempre solo le quest della trama principale, e sono tutte, tutte, tutte le quest che avete a disposizione, saranno su binari, potrete fare, potrete arrivare a fare una cosa, con un solo, con un solo percorso, non potete tipo, sai, perché io devo per forza allearmi con l'istituto, o allearmi con gli altri, perché io non posso fare fuori i minutemen, perché, perché ti rompi i coglioni, non posso allearmi con i predoni, non posso interagire con qualche personaggio negativo, o con qualche, appunto, nemico, per poter, sai, trovare una via di mezzo, per potermi alleare con loro, no, assolutamente, manco sai a di, mi vesto da gunner, così almeno non mi attaccano, e mi mimetizzo con loro, un po' come succedeva nei precedenti Fallout, no, tu devi sparare a quelle cose, se sono rosse le spari, se sono verdi, ci devi parlare, devi fare quello che ti dicono, e poi finisci il gioco, fine, tutto così il gioco, ora, passando sopra ai DLC, che ho provato, ho provato Far Harbor e Nuka World, Nuka World è una sezione praticamente, T-Shooting, se vogliamo, è un DLC che comunque, è fatto secondo me bene, però non è molto da gioco di ruolo, mentre Far Harbor l'ho trovato un po' più ruolistico, e effettivamente dà delle opportunità in più, però non vale la pena spendere soldi per il gioco, e soldi per il DLC, soltanto per, cioè, tu non puoi darmi le scelte, le scelte ramificate solo nel DLC, me lo devi darmi anche nel gioco base, perché ragazzi, veramente nel gioco base, è impossibile far roleplay, è impossibile giocare di ruolo, in un GDR, è grave, è impossibile giocare di ruolo in un GDR, perché? Perché scelte obbligate, il personaggio deve per forza andare a cercare il figlio, devi per forza avere già un background, le interazioni con i personaggi sono poche, e sono veramente da dementi, quindi è impossibile fare il gioco di ruolo, però parliamo di quello che ho apprezzato allora di Fallout 4, perché ci gioco, perché ci ho giocato un sacco, premetto che io Fallout 4 l'ho giocato su PlayStation 4, e recentemente l'ho acquistato poi su PC, perché su PlayStation 4 mi è stato regalato, per fortuna, e i DLC li ho provati su PC, perché su PlayStation 4 non ce li ho mai avuti. Ora, Super PlayStation 4 dava dei problemi di ottimizzazione nella parte centrale della mappa, vicino un posto, che è una città che non mi ricordo, Good Neighbor, ecco, e ho detto, vabbè, sarà un problema di ottimizzazione su console, no, anche su PC. Ora, io non è che ho il PC da gaming quantistico, però, bene o male, tutti i giochi ci girano sopra, e non capisco perché Fallout 4 vada bene ovunque, ma lì debba laggare, come lagga su PS4, come lagga tutti quanti, quindi c'è un problema di ottimizzazione. Ma ho detto che avrei parlato delle cose che mi sono piaciute, quindi, passiamo avanti. Adesso che avete capito perché io odio Fallout 4, capiamo anche perché continuo a giocarci. La componente dello shooting, devo dire che mi è piaciuta veramente tanto, anche delle armi, le armi che si possono personalizzare, e veramente puoi trovare molte combinazioni in base ai tuoi perk, e in base a come è strutturata la build del tuo personaggio. Parlando poi, appunto, dei perk, secondo me, sono stati molto semplificati rispetto ai perk, recenti Fallout, e è una cosa apprezzata sia per chi, comunque, è alle prime armi con un titolo come Fallout, e sia per chi magari è un po' più esperto, perché comunque ha una scaletta, comunque abbastanza organizzata, dei perk, e uno può anche, comunque, studiarsi delle build, avendo già tutti i perk presenti all'interno del gioco, senza che devi andare a cercare sulle wiki, eccetera, insomma. La parte del crafting, della gestione dei vari insediamenti, mi è piaciuta particolarmente, non sono un grande fan di questa cosa, perché non, diciamo che, non sto molto a perdere tempo, a costruire cose su Fallout 4, però sono contento che ci sia, e che ci sia l'opportunità di poter personalizzare, effettivamente, il proprio rifugio, che era una cosa molto, diciamo, voluta da, da chi giocava su Fallout 3, New Vegas, infatti ci sono delle mod per quei titoli lì, quindi è stata, per me è molto apprezzata come componente. E adesso parliamo dell'ultima cosa che mi è piaciuta, la difficoltà sopravvivenza. All'interno di Fallout 4 c'è una difficoltà chiamata sopravvivenza, in cui effettivamente trasforma il gioco in un survival, perché dovremo, non è come la modalità duro su Fallout New Vegas, o sui precedenti Fallout, ma è veramente un survival, bisognerà bere, bisognerà mangiare, bisognerà dormire, potremo salvare soltanto dormendo, perché i salvataggi sono disabilitati, e gli steampack curano dieci volte più lentamente rispetto al normale, i nemici faranno il doppio del danno, e noi solo la metà, quindi le munizioni peseranno, avremo un carico, un peso trasportabile molto ridotto, e potremo riempire le bottiglie vuote con dell'acqua, polita o sporca che sia, potremo purificare l'acqua, dovremo cucinare tutto, le radiazioni effettivamente causano delle malattie, anche appunto le ferite procurate da nemici possono causare malattie, e ci sono un sacco di fattori da considerare, ed è una difficoltà che mi piace veramente tanto, perché dà un senso in più, è anche più divertente del gioco vanilla, perché dà un secondo me un significato in più a giocare a Fallout, perché se la componente del gioco di ruolo pecca in un GDR, almeno c'è una componente survival che ti permette di divertirti, anche se più di più in modo più complesso, e quindi ragazzi, io ho finito qui, con le mie opinioni riguardo Fallout 4, come sempre vi ringrazio per la visione, per l'attenzione e per la compagnia, e noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao a tutti! Ciao a tutti!